Stefano Ardizzone, vero? Sì. Cosa ne pensi della politica? Che cos'è per te la politica? Beh, al momento io della politica non sono ancora inserito perché io vivo a Ricelli, quindi vivo a Livorno Ferrari, se per me non è ancora comodo per esempio inserirmi nelle azioni giovani o altre associazioni perché vivendo lontano non riesco ad avere passaggio per venire qua. Però mi interessa molto in televisione di cosa succede in politica, di movimenti, di vari ministri, cosa succede e penso che la politica è un campo che mi piace, anzi a me piacerebbe fare politico perché è una professione che mi ammiro perché deve ricevere dei voti, rappresenta il popolo in Camera, in Senato e vorrei diventare un senatore, un membro della Camera perché rappresentare il popolo mi piace molto. Insomma le idee sono ben chiare? Certo, sì sì, perché il politico secondo me è una professione che non è come si vede nei giovani che i politici per esempio venivano visti soltanto come elementi che vanno nella Camera quando vogliono oppure vanno soltanto nella Camera per la pensione oppure per ottenere dei soldi, secondo me rappresentando la popolazione fanno valere i nostri ideali che noi abbiamo votato per loro, quindi fanno valere i nostri ideali a Roma davanti alla Camera oppure al Senato e secondo me è una buona cosa.